oggi cari fratelli e cari sorelle desidero parteciparvi una breve riflessione su un argomento che ritengo essere molto molto importante l'argomento riguarda alcune affermazioni che spesso ho sentito dire che se non analizzate alla luce della parola di dio ecco queste affermazioni possono risultare devastanti per la vita dei cristiani mi riferisco in modo particolare ad alcuni modi di dire che diventano sempre più frequenti ad esempio sei ammalato hai pregato per la guarigione e dio non ti ha guarito è colpa della tua poca fede questa è la giustificazione che alcuni predicatori e alcuni pastori danno quando non si avvera un miracolo addirittura si arriva a dire stai vivendo una situazione di indigenza di difficoltà è colpa della tua poca fede e allora quando si usano queste parole si rischia di mettere dei pesi addosso a quei fratelli e quelle sorelle che stanno già attraversando dei momenti difficili noi non dobbiamo mai dimenticare una cosa molto importante che le prove della vita è dio che le permette e tante volte è proprio lui che le programma per la nostra vita per farci del bene perché vuole darci delle benedizioni particolari in quei momenti di prova e di difficoltà l'afflizione stessa come abbiamo detto tante altre volte è lo strumento nelle mani di dio che dio usa per parlare in modo più profondo più intimo al nostro cuore e allora quando un fratello è nella malattia e prega per una guarigione e questa guarigione non avviene e qualcuno gli dice se non sei guarito è colpa della tua poca fede e bene si mette un peso enorme sul cuore di quel fratello di quella sorella un senso di colpa devastante la parola di dio non insegna questo tempo fa un fratello mi confidava che stava vivendo un momento di difficoltà di indigenza e il pastore della sua chiesa gli ha detto se dio non ti libera da questa situazione di indigenza e a causa della tua poca fede capite che questa affermazione diventa veramente pesante per chi sta già vivendo un momento difficile la parola di dio non dice questo abbiamo già esaminato questo aspetto con un altro video messaggio dove abbiamo visto che dio non sempre compie miracoli anche se noi abbiamo fede anche se chiediamo con tutta la fede tante volte il signore decide di rispondere diversamente tante volte il signore dice aspetta conosco dei fratelli e delle sorelle che a causa di malattie incurabili sono morti persone innamorate di gesù che fino all'ultimo giorno di vita hanno pregato per una guarigione e ci credevano nonostante queste richieste nonostante la fede dio ha risposto diversamente la parola di dio non dice da nessuna parte che il credente è esente da malattie o esente dalle difficoltà anzi la parola di dio ci dice che le prove della vita sono necessarie quindi a chi dobbiamo ascoltare la parola di dio o questi pastori che senza una conoscenza e senza timore di dio mettono dei pesi così grandi sul cuore di chi già vive una situazione difficile dobbiamo ascoltare ovviamente la parola di dio e che cosa dice la parola di dio vi leggo quattro passi dalla parola di dio dove vediamo chiaramente che non sempre la vita del credente è una vita facile ma questo lo sappiamo il signore gesù stesso l'ha detto detto chi vuole venire dietro a me sappi che io non ho dove posare il capo ma andiamo alla scrittura vediamo per esempio giacobbe quando giacobbe si presentò davanti al faraone e fece la sua presentazione al capitolo 47 della genesi versetto 9 sta scritto leggiamo anche il versetto 8 e il faraone disse a giacobbe quanti sono gli anni della tua vita giacobbe rispose al faraone gli anni della mia vita nomade sono 130 i miei anni sono stati pochi e travagliati e non hanno raggiunto il numero e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade avete notato cosa dice qua al versetto 9 dice gli anni della mia vita nomade sono 130 i miei anni sono stati pochi e travagliati stiamo parlando di giacobbe di israele colui che lottò con dio e a cui dio di denomo appunto israele dice che gli anni della sua vita sono stati pochi e anche travagliati giacobbe ebbe una vita di travagli non una vita facile era a causa della sua poca fede che visse questa vita di travaglio fatta di travaglio no non era a causa della sua poca fede e allora se oggi un credente vive una vita travagliata perché deve essere additato come uno che non ha fede perché cari pastori dovete mettere dei pesi così gravi sul cuore di questi fratelli dicendo loro che se stanno vivendo una vita travagliata e a causa della loro poca fede anche giacobbe visse una vita travagliata e qualcuno sfido chiunque a dire che il travaglio della vita di giacobbe fu a causa della sua poca fede non credo proprio quindi i travagli della vita non sono dovuti alla nostra poca fede andiamo avanti andiamo nel nuovo testamento adesso leggiamo in prima timoteo capitolo 5 il versetto 23 prima timoteo capitolo 5 il versetto 23 è un passo questo quasi dimenticato ma io lo voglio leggere insieme a voi per farvi vedere un po' un problema che aveva timoteo e che cosa gli consiglia l'apostolo paolo abbiamo detto prima timoteo capitolo 5 versetto 23 notate che cosa dice qui l'apostolo paolo a timoteo dice non continuare a bere acqua soltanto ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni cioè qui abbiamo l'apostolo paolo è che poteva imporre le mani e guarire questo problema lo stomaco di timoteo invece che cosa fa che consiglio gli da dice non bere acqua soltanto ma bevi anche del vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni notate dice frequenti indisposizioni qui vediamo che timoteo aveva un problema frequente allo stomaco aveva delle indisposizioni frequenti e che cosa fa l'apostolo paolo non fa nessuna dichiarazione nessun proclama non comanda al signore di guarire come fanno alcuni oggi non impone le mani non rimprovera timotio di poca fede non dice se tu hai delle frequenti indisposizioni allo stomaco è a colpa della tua poca fede niente di tutto questo dice bevi un po' di vino è disarmante la parola di dio ed è meravigliosa allo stesso tempo se qualche fratello oggi va da questi pastori da questo tipo di pastore gli dice sai un mal di stomaco delle frequenti indisposizioni magari si sente dire ah se dio non ti guarisce è colpa della tua poca fede timotio aveva questo problema e paolo non lo rimprovera affatto di poca fede e non fa neanche nessuna opera soprannaturale avrebbe potuto imporre le mani avrebbe potuto sicuramente invocare una guarigione se non lo fa ci saranno stati dei motivi ma gli dà un consiglio semplicissimo bevi qualche bicchiere di vino senza nessun rimprovero dovuto diciamo alla sua poca fede e oggi purtroppo si usa dire così hai quel problema fisico quel problema di salute hai una gastrite dio non ti ha guarito a non hai avuto fede quando gliel'hai chiesto qui vediamo un figlio di dio che aveva delle frequenti indisposizioni e paolo come se ne esce bevi qualche bicchiere di vino meraviglioso e cosa possiamo dire per esempio di seconda corinzi capitolo 12 versetto 8 conosciamo benissimo questo passo della parola di dio seconda corinzi capitolo 12 versetto 8 lo abbiamo già preso in esame altre volte l'abbiamo già studiato altre volte qui parliamo della spina nella carne di paolo al versetto 8 di seconda corinzi 12 paolo dice tre volte ho pregato il signore perché l'allontanasse da me al versetto 9 continua e dice ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza come conclude poi paolo perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di cristo riposi su di me paolo pregò per tre volte questo pregare tre volte ci fa proprio comprendere il desiderio che paolo aveva di essere guarito e il signore come gli risponde la mia grazia ti basta dio non guarì paolo da questa spina a causa della poca fede di paolo fu a causa della poca fede che dio non lo liberò no la volontà di dio era un'altra la volontà di dio era che quella spina nella carne rimanesse e dio gli dice anche il perché perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza e tante volte per sperimentare la potenza di dio nella nostra vita dobbiamo prima realizzare la nostra debolezza quella spina nella carne di paolo che era un problema diventa un motivo di vanto infatti paolo dice perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze qualcosa che prima lo affliggeva che poteva rappresentare una difficoltà un problema diventa un motivo di vanto dice mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me meraviglioso anche questo passaggio andiamo alla conclusione e rispolveriamo la lettera ai filippesi lettera ai filippesi che conosciamo benissimo filippesi capitolo 4 a un certo punto al versetto 11 12 e 13 leggiamo quanto segue non lo dico perché mi trovi nel bisogno perché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame a essere nell'abbondanza e nell'indigenza fermiamoci qua qui paolo che cosa sta dicendo sta dicendo delle cose meravigliose dice io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo e poi va avanti e dice so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza poi dice ancora in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza oggi se un fratello è nell'indigenza magari il suo pastore gli dice è colpa della tua poca fede paolo qui sta parlando di esperienze vissute dice che lui ha imparato ad accontentarsi nello stato in cui si trova e poi dice chiaramente che sa vivere anche nella povertà vuol dire che ha vissuto momenti di povertà dice in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame ha sofferto anche la fame ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza ha vissuto momenti di indigenza ed era a causa della sua poca fede che paolo ha sperimentato la fame la povertà e l'indigenza no egli conclude con quelle parole meravigliose del versetto 13 dove dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica paolo riconosceva la sovranità di dio nella sua vita notate dice io ho imparato ad accontentarmi egli ha imparato la parola imparare ci fa ricordare la scuola paolo viveva alla scuola del signore e a questa scuola egli ha imparato a vivere in povertà e in abbondanza nell'indigenza ad avere fame e essere saziato oggi ai fratelli che vivono momenti di indigenza di difficoltà gli si dice è colpa della tua poca fede questo non è il modo per incoraggiare un fratello che è già nel bisogno bisogna riconoscere la sovranità di dio anche in quelle circostanze e paolo lo riconobbe con queste parole perciò trovava la forza di affrontare anche quei momenti difficili dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica dio gli dava la forza anche di sopportare la fame i momenti di indigenza e di difficoltà e invece oggi si accusano di poca fede quei fratelli e quelle sorelle che sono ammalati o che non guariscono da alcune malattie probabilmente il Signore non ha ancora deciso di guarire non è ancora il tempo noi dobbiamo sempre invocare il Signore e a questo proposito voglio aprire una parentesi ho detto invocare e aggiungo supplicare non comandare oggi si usa dire negli ultimi tempi dobbiamo attivare la preghiera profetica così che dio esaudisca tutte le nostre preghiere in altre parole con l'attivazione della preghiera profetica abbiamo la certezza di ricevere tutto quello che chiediamo ho letto qualcosa del genere ultimamente su Facebook e questa è un'altra assurdità io devo attivare la preghiera profetica per mezzo della quale dio esaudisce tutte le mie richieste ma che cos'è la lampada di Aladino qualcuno mi può dire in quale libro della Bibbia in quale versetto trovo le istruzioni per attivare questo bottone della preghiera profetica si arriva a questo punto si è arrivato si è arrivato al punto ma già da tempo a fare dichiarazioni dichiarazioni nel nome di Gesù proclami nel nome di Gesù ma non solo si è arrivato al punto di comandare allo Spirito Santo di comandare a Dio di fare determinate cose ma questa che roba è? nella parola di Dio io leggo che dobbiamo far arrivare al trono della grazia di Dio le nostre suppliche e la supplica è un'invocazione è una fervente richiesta di un favore non un ordine che io do a Dio oggi si dichiara a casaccio e poi si conclude con la frase nel nome di Gesù si coinvolge il Signore Gesù in dichiarazione e proclami che Egli non ha mai istituita non ci ha mai lasciato detto nella parola di Dio queste sono assurdità queste manie di superpoteri della Marvel bisogna che alcuni pastori predicatori e guaritori ecco se le tolgano perché non è così che funziona vi racconto vi racconto questo episodio velocissimo e vado alla conclusione tempo fa mi arrivano due audio su Whatsapp una voce femminile e una voce maschile la voce femminile parlava dei suoi problemi delle sue difficoltà dei suoi malanni così prese la parola la voce maschile e per 20 minuti cominciò a dichiarare nel nome di Gesù guarigione su quella voce su quella donna dichiarava guarigione proclamava guarigione affermando che in quel preciso momento quella donna era guarita da tutti i suoi malanni dopo 20 minuti di dichiarazioni e proclami questa voce maschile salutando la donna dice fammi sapere se ti sentirai meglio fammi sapere come va e la voce femminile risponde dopo aver detto amen 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 a tutte le dichiarazioni e proclami la voce femminile risponde e dice speriamo bene ora ditemi una cosa per 20 minuti hai fatto delle dichiarazioni nel nome di Gesù dei proclami nel nome di Gesù durante il tuo intervento in quei 20 minuti hai dichiarato con fede la guarigione immediata istantanea di quei problemi e poi concludi dicendo fammi sapere come starai fammi sapere come va e allora cosa hai dichiarato per 20 minuti hai fatto delle dichiarazioni a vuoto senza senso hai nominato il nome del Signore in vano e hai usato il nome di Gesù in modo improprio se tu per 20 minuti mi dichiari guarigione e proclami guarigione non puoi concludere dicendo fammi sapere come va e l'altra voce femminile che a ogni dichiarazione proclama diceva amen non può concludere dicendo speriamo bene queste sono pagliacciate da una parte dichiarate con fede e comandate e da un'altra parte vi salutate entrambi con il dubbio e l'incertezza sull'esito delle preghiere fatte delle dichiarazioni fatte ecco siamo arrivati a questo punto queste sono solo pagliacciate e riguarda l'attivazione della preghiera profetica è la più grande novità degli ultimi tempi dalla quale dobbiamo guardarci e stare lontani la parola di Dio ci parla chiaramente che le prove sono necessarie l'afflizione è necessaria il credente non è esente da difficoltà e neanche da malattie e siamo chiamati a supplicare invocare pregare e attendere pazientemente fiduciosamente la risposta del Signore e se il Signore dovesse rispondere diversamente da come noi ci aspettiamo non è detto che quella risposta è diversa perché abbiamo mancato di fede piuttosto chiediamoci e diciamo quella era la volontà di Dio e allora a quel punto lì siamo chiamati poi a sottometterci a quella volontà quindi e concludo state attenti non rimproverate coloro che soffrono di poca fede non rimproverate coloro che vivono momenti di difficoltà anche materiale di poca fede perché abbiamo dei casi nella Bibbia dove alcuni nostri fratelli hanno vissuto quelle esperienze e state attenti a coloro che dichiarano proclamano e comandano lo Spirito Santo di fare determinate cose io devo comandare allo Spirito Santo io devo supplicare invocare Dio l'invocazione è il grido di un cuore rotto che ci è di aiuto a Dio questo deve essere il nostro atteggiamento quella della supplica e l'invocazione non quello del comando o della dichiarazione che poi alla fine alla fine delle dichiarazioni fammi sapere come andrà bene queste sono cose veramente che di biblico non hanno niente scusatemi se mi sono dilungato vi saluto tutti con un incoraggiamento da parte del Signore se stai vivendo un momento di difficoltà se stai aspettando da anni e lo dico a me stesso questo stamattina se stai aspettando delle risposte dal Signore da anni non perdere la speranza e non dare ascolto alla voce del nemico che spesso parla attraverso questi pastori questi predicatori e queste persone esaltate non dare ascolto a quella voce che dice se Dio non ti ha risposto è colpa della tua poca fede se tu hai pregato con fede quella tua preghiera è giunta al trono della grazia di Dio Dio risponderà secondo i Suoi tempi noi siamo chiamati a continuare a sperare a non perdere mai la speranza questo è il nostro compito e fidiamoci di Dio la nostra vita è nelle sue mani fidiamoci di Lui sia benedetto il suo nome e grazie a tutti per la vostra attenzione e grazie a tutti